Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi siamo qui con Simona, Simona Angelino, che ci aiuterà a cantare una canzone Il mondo prima di te di analisa. E questo è lo spazio, come sappiamo, ormai riservato a imparare le accordi al pianoforte. Esatto. Dopo la sigla. Canta, 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 canta. In libertà. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone è formata da quattro accordi che sono fa diesis minore, quindi sappiamo che dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il do, do re mi fa, questo è fa diesis, la do diesis forma il fa diesis minore, poi c'è il la maggiore quindi do re mi fa sol la do diesis mi forma in la maggiore poi c'è il mi maggiore quindi do re mi mi sol diesis si maggiore ed infine questo è il do andiamo indietro c'è il si si maggiore sarebbe si re diesis fa diesis vediamo come fa la strofa bene poi andando avanti gli accordi rimangono rimangono identici e c'è un ponte che porta al ritornello e conserva gli stessi accordi vi facciamo sentire e come avete visto sia il ponte che il ritornello hanno gli stessi accordi infine c'è una parte che è uno special dove ci sono soltanto tre accordi mette fa diesis minore sempre il mi maggiore e il si maggiore non mette il la e vi facciamo ascoltare come fa il si quattro battute ecco e adesso si ripete il ponte e il ritornello e tutto ritorna come prima bene come abbiamo visto anche questa è una canzone molto semplice da suonare al pianoporte io ringrazio simone angelino grazie a te per averci dato una mano in questa con questa canzone e inoltre vi lascio un link su puntate dedicate al proprio a come imparare gli accordi del pianoporte in più il link della canzone dove trovate il testo con gli accordi è la per entrambe le mani va bene sei d'accordo allora possiamo salutare va bene ciao 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 ciao